Montevarchi, gioco del Pozzo, incidenti, tre delle quattro squadre si rifiutano di giocare le finali, vittoria assegnata ai gialli a tavolino e polemiche a non finire. E la sintesi dell'edizione 2024 del gioco della Pozzo di Montevarchi, l'evento principale del perdono montevarchino, un'edizione finita purtroppo male, anzi malissimo. Il gioco del Pozzo, uno degli eventi più importanti e sentiti, ha lasciato una profonda ferita infatti nella comunità di Montevarchi. Il sindaco Silvia Chiasai Martini ha rilasciato una dura dichiarazione in merito agli eventi che hanno segnato la serata di domenica, esprimendo amarezza e preoccupazioni per il futuro della manifestazione. La comunicazione del sindaco arriva dopo che, durante la competizione di domenica, si sono verificati episodi di grave indiscipline da parte di alcuni giocatori, i quali non hanno rispettato il regolamento condiviso. La situazione è poi ulteriormente degenerata sugli spalti e da bordo campo, dove il lancio di una bottiglia e di un bicchiere hanno colpito due bambini, fortunatamente senza gravi conseguenze. La serata di ieri ha generato una profonda ferita nella storia del gioco del Pozzo, scrive Silvia Chiasai Martini, l'evento più importante simbolo di partecipazione e di affezioni alla nostra città. In seguito all'increscioso evento dello scorso anno, dice il sindaco, il Comune aveva intrapreso durante l'anno, su richiesta di quattro capitani, un percorso di concertazione con gli stessi per arrivare ad approvare un regolamento condiviso da tutte e quattro le contrade, oltre ad averle aiutate ad individuare nuovi arbitri per gestire un gioco particolare che va conosciuto e sapientemente condotto a garanzia dei giocatori stessi. Non ultimo, giovedì scorso, la Comune ha convocato i capitani, dice Chiasai, affinché tutti e quattro si assumessero la responsabilità di condividere con le squadre il rispetto del regolamento e per tenere una condotta civile dentro e fuori il campo a tutela della futura del gioco del Pozzo stesso. Chiasai sottolinea come sia mancato un atteggiamento responsabile da parte di alcuni partecipanti, mettendo a rischio la sicurezza e l'integrità della manifestazione. Dopo il lancio di alcuni oggetti in campo, la commissione disciplinare, composta dagli arbitri, dal maestro di campo e dalla presidente della rievocazione storica, ha deciso di espellere due giocatori coinvolti negli incidenti ed ha incaricato il sindaco di comunicare alle squadre le misure disciplinari. I responsabili del lancio degli oggetti sugli spalti sono stati identificati grazie ai filmati e verranno adesso perseguiti dalle autorità competenti. L'episodio però ha avuto un ulteriore strascico polemico quando tre squadre su quattro hanno scelto di non scendere in campo, portando alla vittoria a tavolino dell'unica squadra rimasta, quella dei gialli. Il sindaco ha definito questa scelta legittima ma non condivisibile, sottolineando la necessità di una profonda riflessione sul futuro del gioco del Pozzo, soprattutto da parte dei vertici della rievocazione storica. Chiasai ha concluso dicendo che il Comune si considera parte l'ESA in questa vicenda come il resto della comunità ed ha invitato l'Associazione della rievocazione storica a gestire le richieste di rimborso dei biglietti. L'incidente solleva interrogativi oltre che polemiche sul futuro di una tradizione tanto sentita che rischia di essere compromessa però da comportamenti irresponsabili e dalla mancata accettazione delle decisioni disciplinari.